Musica Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti a redi bagno. Tu scegli? Noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel, Aruncade, Treviso. Benvenuti al meteo. Il mese di febbraio si conclude con il bel tempo, ancora alta pressione, che tiene lontane le perturbazioni, ma infiltrazioni più fredde faranno calare lievemente le temperature. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto sarà una domenica in compagnia di un tempo asciutto e stabile. La giornata risulterà decisamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi al massimo con locali velature. Clima un po' più fresco con temperature minime tra 1 e 5 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 9 e i 12 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia la situazione. Con tanto sole anche qui su tutti i settori, il cielo sarà sereno e limpido. Temperature minime tra 1 e 5 gradi, massime sugli 11-13 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni assenti. Anche qui il sole sarà ben presente, locali nubi, sui settori meridionali. Temperature minime intorno allo 0-2 gradi, massime invece sugli 11-13 gradi all'incirca. Dal Meteo per ora è tutto. Vi auguro come sempre un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Lasciati ispirare dai nostri pavimenti e rivestimenti a re di bagno. Tu scegli? Noi pensiamo a tutto il resto. Meneghel Aruncade Treviso Grazie a tutti.